Siamo YesPy per averci mandato queste creme, ricordiamo che il nostro codice sconto è Sunset2812 e in descrizione potrete trovare il link da cui acquistare prodotti su YesStyle. Passiamo alla revisione di queste fantastiche creme. Grazie mille! La roba di Nostine Essentials, che è una crema solare con SBF50, quindi anche per le pelli più sensibili e più chiare. È un po' adergenica, quindi anche per chi soffre di allergie o per chi come me ha la pelle delicatissima, quindi qualsiasi cosa rovina la texture o può venire il bruto di punti neri, eccetera. È ottima. Si spalma benissimo, è molto leggera, non lascia la pelle un cane troppo pesante, non la sentite. È ottima da usare prima del trucco, perché io l'ho usata solo prima del trucco, perché non stratifica e non mi occude i cuori, quindi è fenomenale. Protegge la pelle dai raggi solari UVA e UVB che, insomma, portano all'invecchiamento precoce della pelle, quindi se non volete avere delle pelle, è meglio usare la crema solare perché è buona. Questa invece è la Secret Key Stardic Treatment Role Tampoon, è un siero preparatorio che pulisce la pelle e la prepara agli tempi successivi della skin care. Ha una consistenza molto leggera, sposa, si assorbe velecemente e lascia la pelle idratata, tonifica, schiarisce anche la pelle. Inoltre è tem free, quindi priva di qualsiasi sostanza nociva per la pelle. Questa qua, anche questa è una crema solare, però in realtà non è una protezione vera e propria, in quanto è più una crema idratante che fornisce anche protezione non per la GP. Infatti è consigliabile utilizzarla come primer prima del frutto, così che ti rende la pelle idratata e morbida e facilita anche l'applicazione di profilta, ombretti e qualsiasi altra cosa. Questa crema è a base di lava dilmata, che è una sostanza che aiuta molto per la morbidezza nella stessa della pelle. Io la consiglio perché effettivamente provandola mi ha aiutato molto la pelle, perché io ho provato una pelle naturalmente setta e quindi magari quando vado ad affrontare il trucco mi viene molto bene. Con questa, sinceramente, mi sono troppo molto bene. È una tema che va con gli animalisti, è una marca anche abbastanza conosciuta, bonosa e infatti è una del frutto. Allora, questa non si vede però è Vitamin 75 Maximizing Cream. Questa crema idrata la pelle, la rende più delicata e levigata. Va usata due volte al giorno, una volta la mattina prima del trucco e una volta la sera dopo essersi struccati. È a base di vitamina E, soprattutto, acqua e al 75% da vitamina E. Per esperienza personale, posso dire che dopo una settimana di utilizzo ho visto che la pelle è diventata molto più morbida e dove era secca si è idratata tantissimo e dove ce l'avevo grassa, siccome la pelle è mista, non si è unta, anzi come sono spesso le creme che mi muovono la pelle ancora di più. Questa me l'ha resa tutta più morbida e soprattutto ho visto che molti bruccoli che avevo, soprattutto sulla fronte, mi sono dimezzati dopo una settimana che l'ho usata, sicché ho provato. Voglio anch'io! A dare gli animalisti! A dare gli animalisti! A dare gli animalisti! A dare gli animalisti! A dare gli animali! A dare gli animali! Posso andare io? No! 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 Cioè, ora posso andare io! Anche questa crema occhi come il siero di cui ho parlato d'ora prima della Secret Key è uno starting treatment però per il contorno occhi e anche se in realtà la potete utilizzare su tutto il viso e prepara la pelle ovviamente come il siero ma a differenza del siero idrata più a fondo e vi distende anche le rughezze Ecco questa prima del trucco e lascia la pelle letigata, idratata e anche un ottimo profumo di rosa quindi buono Anche questa è una crema solare, si chiama Claire però a differenza di quell'altra è vegan friendly quindi non contiene sostanze a livello animale ed non è costato sugli animali Contiene i guai a zelene che è una proprietà che aiuta la pelle a non invecchiare fretta Protegge dal raggio B e inoltre è molto buona per le pelli molto sensibili Una cosa da fare è applicarla prima del trucco e non rilascia praticamente macchie bianche Allora, questo qui è un cleanser praticamente tonifica ma fa anche un po' da struccanze Viene visto prima della skin care Praticamente serve per ricostruire la pelle ma non solo riesce anche ad idratarla Con il 62% di fichi, la consiglio soprattutto a chi ha una pelle piuttosto grassa e chi ha l'acne Perché ricostruendo diciamo i pori e comunque tutte le cellule aiuta anche a orientare tutta l'acne Grazie per aver guardato questo video, vi ricordiamo di comprare da Yastain usando il nostro codice E il link in descrizione E ci vediamo al prossimo video Perché? Non ci vediamo al prossimo video Non abbiamo il prossimo video Come no? Ricordatevi di prendervi il fura della vostra pelle Guardate Kikit Guardate Kikit E Scream E Scream E tutte le altre ciaule E ciao Ma non saranno ancora uscite Non saranno ancora uscite Guardatele quando estono Stay tuned Stop Bravi Grazie a tutti Questo qui invece è un cleanser Insieme a BigFooty Booting BigFooty BigFooty Grand piedana BigFooty BigPutin Oh BigPutin 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 È caduto Putin Non è caduto Putin Non è caduto Non è caduto È caduto il genocchio Da l'orecchio di là Voglio vederla Scusa Io devo fare il video È l'ultimo video Voglio mangiare le cheesecake Dai Non le fate ride È composta da Vicky Ma Vicky Come le chiami te? Morda Donny the Young Ma cosa si dice? Anche lei lo sarà Una partolarità Che ha babba di un'età E quindi No scusa Perché avevi riso Sembra veramente un'insegnante Donny party Vai 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 Ma l'ho visto Non è un cerebro Non è un cerebro Non è un cerebro Non è un cerebro Sara sta morendo Sara Sara sta male Sto morendo Sto morendo Scusa Scusa Dai È appunto una cosa Molto Positiva Per la pelle E anche Sto morendo Sto morendo È di supporto La tira a tutti voi Anche Ma non è un cerebro Ma le tese È difficile Di fatto Non dużo Sto morendo Mi spediamo Quando la felle Positiva Per la pelle È sempre Mi diste Andiamo alla scuola Come abbiamo visto A capitolotto Ok vai Grazie a tutti